Totti, altre indiscrezioni sulle scommesse lui risponde a modo suo. Francesco Totti, in questi giorni continua il suo tour tra Emirati e Arabia giocando prima a fotogolfo e poi a padella. Vince un torneo con l'ex compagno Enrico Annoni, per i romanisti Tarzan e pubblica una foto sorridente. Con lui, tra lavoro e vacanza, anche la fidanzata Noemi Bocchi. Totti, quindi. Va avanti con la sua vita, a tutto il resto stanno pensando i suoi legali. Totti e le scommesse. Le nuove indiscrezioni stamattina sempre il quotidiano La Verità ha pubblicato nuove indiscrezioni in merito all'amico di. M che sarebbe al centro dell'indagine sui bonifici sospetti effettuati da Totti. Al centro dell'articolo la passione per l'acquisto e la rivendita di auto di lusso tra l'Italia e l'estero da parte di D. M. Macchine che verrebbero spesso prese a noleggio da alcuni amici che si occupano della gestione di autovetture di grosse cilindrata. Il nome di Totti, se non fosse per le indiscrezioni dei giorni scorsi e l'amicizia con D. M., non pare emergere in questo nuovo capitolo della vicenda. Ecco perché Francesco continua. Senza problemi, la sua vita. In attesa di chiarire la sua posizione, se necessario. Virgola.